Poi attenzione a quelle che forse sono quelle più, diciamo, meno ricordate, meno trattate, meno eseguite bene, le funzioni esponenziali, perché qui abbiamo una casistica piuttosto ricca. Allora, cominciamo dal primo caso. Io sto seguendo letteralmente lo specchietto che vi ho detto, quindi cercate di seguirlo anche voi di lì. Quindi, y uguale a elevato a f alla f di x. Allora, attenzione, la a, nello studio di funzioni che noi faremo, in genere è un valore che viene assegnato, quindi la condizione che a sia maggiore di 0 è diverso da 1, maggiore di 0 per ragioni legate alle potenze corrispondenti reali, è diverso da 1 perché se fosse 1 non sarebbe più un esponenziale, e sarebbe una funzione costante y uguale 1. Questa condizione, in genere, non la porremo noi, cioè è già la traccia, per così dire, dell'esercizio che ci porrà il valore di a, e quindi se ci fosse un a negativo sarebbe una funzione che non si può studiare, quindi diciamo, in genere, questo non avviene. L'esponente non ha alcun problema, quindi, a parte i valori, diciamo, del dominio proprio della f di x, ma in quanto esponente di a, la f di x non ha alcun problema, quindi possiamo accettare tutto purché, naturalmente, abbia senso la funzione f di x. Quindi, anche qui, se io avessi, per esempio, a elevato a, per esempio, radice di x, è la radice di x che imporrà x maggiore o uguale di 0, ma non l'esponente. Poi abbiamo il secondo caso, che è questo, cioè una f di x elevata a una g di x, quindi una funzione elevata a un'altra funzione. esempio, per esempio, y uguale seno di x elevato a radice di x quadrato meno 1, questo è il caso che stiamo analizzando adesso. Allora, attenzione, qui il problema riguarda la base, la base deve essere positiva, non ci sono alternative, deve essere positiva, quindi qui se è di x maggiore di 0, oltre, ovviamente, a problemi concernenti il dominio della f di x, che potrebbe essere ancora più severo della semplice f di x maggiore di 0, è il dominio della g di x. Quindi qui, per esempio, la base maggiore di 0 ci basta per la base, non ci sono altre limitazioni per sen x, quindi sen x maggiore di 0, però l'esponente qui ha un problema perché è un radicale, quindi scriveremo x quadrato meno 1 maggiore o uguale di 0. L'altro caso, l'ultimo caso, è invece una f di x elevato a un numero alfa, con alfa irrazionale. Allora, perché se alfa non è irrazionale, naturalmente questo diventerà un radicale se è un numero razionale oppure è una funzione, diciamo, con un esponente intero che non dà problemi. Allora, se alfa è irrazionale, allora attenzione, se alfa è maggiore di 0, per esempio pi greco, allora dobbiamo porre semplicemente la base, attenzione, maggiore o uguale, cioè è un po' meno pesante di questa condizione qui. Ma se alfa fosse negativo, per esempio meno e, allora la base deve essere strettamente positiva, quindi, diciamo, ritorniamo a questo caso che abbiamo visto prima. Le funzioni goniometriche, attenzione, seno e coseno, sapete, non hanno problemi. La tangente e la cotangente sì, quindi, per esempio, nel caso della tangente, noi scriveremo che la x, scriviamo y uguale tangente di x, x diverso da pi greco mezzi più k pi greco. E la cotangente, invece, y uguale cotangente di x, x diverso da k pi greco, quindi per 0, pi greco e così via. Quindi sono abbastanza leggeri le limitazioni per le funzioni goniometriche. Per le inverse delle goniometriche, invece, le condizioni sono pesanti. Per esempio, y uguale, scriviamo qui sotto, se mi sembra leggere, sì, y uguale arcoseno di f di x, e allora, in questo caso, f di x deve essere compreso tra meno 1 e 1 estremi inclusi. E ricorderete che il seno non può andare oltre i limiti di questo intervallo e quindi non avrebbe senso scrivere arcoseno di 2, perché 2 non può essere il seno di alcun angolo. Quindi questo comporta subito meno 1 minore o uguale, perché l'uguale ci sta, f di x minore o uguale di 1. Così per l'arco coseno. L'arco tangente, invece, può accettare qualsiasi valore dell'argomento, perché la tangente può assumere qualsiasi valore compreso tra meno infinito e più infinito. Abbiamo adesso una carrellata di funzioni, vi ho scritto il numero della pagina e il numero dell'esercizio, quindi sono presi dal libro, delle condizioni da imporre a queste espressioni ai fini del calcolo del dominio. Allora, attenzione. La prima funzione, l'esercizio 43 di pagina 1305, è una funzione razionale fratta e quindi semplicemente andremo a porre che il denominatore della frazione sia diverso da zero. In questo caso, la funzione di terzo grado, possiamo aspettarci tre soluzioni reali, anche se non è detto che ci siano, oppure una soluzione reale e due complesse. Quindi potremo avere in questo caso ben tre valori in cui la funzione non esiste, oppure uno solo reale. Lascio a voi poi di risolvere le varie equazioni, o di sequazioni, adesso mi limito semplicemente a scrivere le condizioni. Nella 54 di pagina 1306 abbiamo una funzione irrazionale e radicando è a sua volta una funzione razionale fratta. Allora, qui scriveremo che il tutto irradicando deve essere maggiore o uguale di zero e nello stesso tempo scriveremo che il denominatore di questa frazione sia diverso da zero. Vedete, questo potrebbe essere compreso qui dentro se ce lo ricordiamo, ma è bene proprio scriverle, poi magari le fondiamo queste condizioni, è bene scrivere e leccarle tutte, senza fare alcun passaggio, semplicemente alencare le condizioni che devono essere rispettate. Il numero 59 è una funzione che contiene, diciamo, espressioni irrazionali. In questo caso la radice si trova al denominatore, quindi comunque dovremo porre che il denominatore sia diverso da zero. Quindi cominciamo. La prima condizione, in quanto radicale, noi dovremo scrivere maggiore o uguale di zero, ma poiché si trova al denominatore, e possiamo qui fondere subito le due condizioni e scrivere che deve essere strettamente maggiore di zero. Quest'altro invece è al numeratore, quindi non c'è un problema lo zero, ma sicuramente il radicando deve essere maggiore o uguale di zero. Quindi andremo a risolvere questo sistema e il nostro dominio conterrà soltanto gli elementi che soddisfano sia la prima che la seconda condizione. Vediamo il numero 70. Il numero 70, anche in questo caso ci sono delle radici e c'è un denominatore, quindi scriveremo che il primo radicando è maggiore o uguale di zero, attenzione, il secondo è maggiore o uguale di zero, però attenzione, è tutto il denominatore che adesso deve essere diverso da zero, quindi andremo a risolvere quest'altra condizione, radice di x meno radice di x quadrato meno due diverso da zero. E anche qua, vedete, se voi non ricordate come si risolvono queste equazioni, è chiaro che potete anche averle impostate per bene, ma la cosa già prende una cattiva piega. Vediamo l'82. Allora, l'82, vedete, è interessante perché contiene il modulo. Sul modulo adesso vi farò una piccola precisazione, perché io ogni anno vedo degli errori stupidi che si ripetono con classi diverse. Allora, ve lo dico subito, il modulo, in quanto modulo, non ha alcun problema, cioè io trovo spesso, scritto, ho trovato in passato, spero di non trovarlo con voi, l'argomento del modulo maggiore o maggiore o uguale di zero. Questa condizione non esiste. Il modulo può contenere come argomento qualsiasi valore, positivo o negativo. Solo se il modulo si trova all'interno di un'altra funzione, allora dovremo opporre la condizione che, diciamo, è specifica dell'altra funzione, come in questo caso. Quindi, attenzione, il modulo ha un problema relativo al fatto che l'espressione cambia aspetto a seconda del segno del modulo. Ma questo è un altro dell'argomento del modulo. Questo è un altro problema. Non è un problema relativo al fatto che il modulo non possa essere positivo o negativo. Quindi, vediamo qui. Abbiamo una radice quadrata, quindi sicuramente maggiore o uguale di zero il primo radicando. Qui poi abbiamo tutto questo denominatore che deve essere diverso da zero e quindi lo scriviamo diverso da zero. Poi, attenzione, qui abbiamo una radice attenzione, una radice di un numero che è senz'altro maggiore o uguale di zero. Allora, in quanto numero positivo qui non dobbiamo porre nessuna condizione perché noi sappiamo che il modulo è sicuramente positivo. Ripeto, dentro ci può stare quello che vogliamo però il modulo deve essere sicuramente positivo o uguale a zero. In quanto valore positivo ci va benissimo perché la radice di un numero positivo esiste sempre. Dovremmo porre la condizione modulo di x-1 diverso da zero perché è il diverso da zero che non posso accettare in quanto denominatore ma questa condizione è già compresa nella precedente perché qui dovremo andare a studiare separatamente i due fattori e quindi ci andremo ad occupare di x-1 modulo diverso da zero. Quindi non c'è bisogno di scrivere nient'altro perché è tutto compreso qui dentro. La radice non è che non ci dà problema e che è una radice di un numero che è preso come modulo e quindi vi ho spiegato il motivo per cui non dobbiamo scrivere nient'altro. Scrivere le condizioni che non esistono è sbagliato come non scriverle cioè vi porta sicuramente su strade sbagliate. Vediamo queste altre. Queste sono funzioni funzioni trascendenti e vediamo un po' come trattare questo caso. Allora qui abbiamo logaritmo che ha come argomento un altro logaritmo. Allora qui possiamo decidere di partire dalla funzione più interna o da quella più esterna però dobbiamo esaminare tutte le condizioni e scriverle tutte poi magari le fondiamo le annulliamo ma le scriviamo tutte. Allora se noi partiamo dalla espressione più interna il logaritmo non può avere un argomento negativo o nullo e quindi questo è x maggiore di zero però a sua volta questo logaritmo è argomento di un altro logaritmo quindi esso stesso diventerà maggiore di zero. Guardate che in questi casi solitamente questa condizione è più restrittiva di questa per cui questa viene fusa qui dentro cioè questo logaritmo di x maggiore di zero significa x maggiore di uno che è sicuramente più severo di x maggiore di zero quindi questa condizione assorbe questa qui. Allora se uno diciamo le cose le padroneggia alla perfezione a volte può anche a parte che vi conviene comunque scriverle tutte può diciamo subito fare il passaggio semplificarsi la soluzione successiva altrimenti ve le studiate tutte anche se magari poi scoprirete che una è compresa nell'altra vi fate il vostro diagramma di sistema e andrete poi a scegliere le x che soddisfano tutte le disequazioni qui abbiamo vedete quel caso che vi dicevo prima cioè abbiamo una A elevato a una certa roba abbiamo detto che la A deve essere positiva è diversa da 1 e diciamo la traccia di solito non è ingannevole cioè non è che vi da una funzione che non esiste con lo scopo di mettervi in difficoltà e di prendervi in castagna se voi accettate basi negative quindi qui il valore è positivo e ci ricordiamo che la F di x non aveva alcun problema cioè l'esponente a parte però i problemi derivanti dalla sua funzione dalla sua espressione qui abbiamo una radice quindi in quanto esponente non avrebbe nessun problema ma in quanto funzione irrazionale i problemi ce li ha e quindi scriveremo x fratto x meno 3 maggiore o uguale di 0 x meno 3 diverso da 0 numero 106 abbiamo una logaritmica fratto una funzione diciamo a un valore assoluto allora attenzione la prima condizione è elevato alla x meno 1 maggiore di 0 e su questo non ci sono altri problemi qui dentro il modulo questo è il caso in cui diciamo qualcuno sbaglierebbe il modulo in quanto modulo non dà alcun problema però questo uguale a 0 non può essere quindi dovrei scrivere modulo di x meno 1 diverso da 0 questo diciamo fa sparire subito il modulo perché modulo diverso da 0 significa argomento del modulo diverso da 0 quindi al prossimo passaggio noi andremo a scrivere è arrivato alla x maggiore di 1 e quindi diciamo in maniera semplice x maggiore di 0 e poi x diverso da 1 x maggiore di 0